Musica Ragazzi prima di iniziare come sempre vi ricordo di supportarmi nello shop di Fortnite come creatore inserendo il codice KADIAXYT Ragazzi per supportarmi è davvero semplicissimo basta cliccare in basso a destra sul tasto supporto in creatore ed inserire il codice KADIAXYT Detto questo ragazzi se appunto shopperete una skin mandatemi direttamente il video su Instagram perchè vi riposto e vi ricordo che al raggiungimento dei 3000 supportatori regalerò 10 pass battaglia a 10 di voi Quindi ragazzi semplicissimo cliccate in basso a destra inserite il codice KADIAXYT e mandatemi la foto su Instagram che mi supportate e che avete shoppato Mi raccomando ragazzi questo è molto importante per supportarmi anche perchè quando andate a shoppare una piccola percentuale arriverà Ragazzi in questo modo mi supporterete in modo indiretto Il mio canale è Telegram perchè raga su Telegram ho davvero un sacco di codice ecco qua Però ragazzi benvenuti finalmente in questo nuovissimo video Ragazzi questo oggi vi mostrerò un bug davvero incredibile su come ricevere 60 livelli del pass in modo gratuito Beh raga però prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Instagram perchè su Instagram raga vi aggiorno davvero ogni minuto delle mie storie Pubblico codici per appunto ricevere i bug e tantissime altre cose Mi raccomando raga trovate il link in descrizione del mio Instagram mi chiamo comunque KADIAXYT in caso cercatemi e seguitemi Ragazzi scusatemi solamente ora mi sono accorto che c'era un bordello incredibile del ventilatore Mi dispiace davvero tantissimo comunque spero non vi da fastidio raga perchè si lo so E' un po' stressante però accontentatevi lo stesso Ragazzi prima di continuare vi ricordo di unirvi al mio canale Telegram perchè raga su Telegram do davvero un sacco di codici Ecco qua un po' di foto raga Do ogni sabato alle 18 dei codici di PSN che potete riscattarli sul negozio di PSN Per comprarvi qualsiasi cosa raga potete spendere su Fortnite, su altri videogiochi, su GTA 5 Qualsiasi videogioco che appunto è presente sulla Play Quindi mi raccomando ragazzi trovate il link in descrizione del canale Telegram Ogni sabato alle 18 mi raccomando attivate la campanellina anche dei post del canale Telegram In questo modo non vi perdete niente E mi raccomando ragazzi quando andrò a givare il codice dovete essere velocissimi da prendere il codice e riscattarlo sul negozio Mi raccomando ragazzi molto importante attivate la campanellina il link in descrizione del canale Telegram Ok raga passiamo al glitch Questo glitch è stato trovato da youtuber americani che purtroppo non posso farvi il nome Questa volta no raga questa volta non è Nogo Ma ci sono davvero pochissime persone che lo conoscono Beh raga si mi sa che probabilmente sarò il primo in Italia a scoprire aver scoperto questo glitch Però non ve lo posso mostrare subito Perché raga prima vorrei aggiungere la soglia di like io non vi ho mai chiesto like in un video Quindi ragazzi per questo video vi chiedo 10.000 like So che sono una cifra abbastanza alta ma vedrete che ce la facciamo Raga io non ho mai chiesto like mai mai chiesti like Solamente questa volta volevo chiedere questa piccola soglia perché raga è anche un traguardo fra i 10.000 like Quindi vi prego raga spolliciate a dire basta condividete il video con tutti i vostri amici Dite ai vostri amici di iscriversi al canale e lasciare like perché a 10.000 like raga vi farò un video Ovviamente di durata brevissima Dove vi spiegherò tutto il glitch passo passo Quindi tutti quanti a spammare di pollicioni in su raga Comunque raga tanto per informarmi io da poco ho creato il canale telegram Io non ho quasi mai avuto un canale telegram ma ho deciso Visto che c'è un sacco di amici che mi stanno aiutando Infatti ho deciso ragazzi che ogni sabato sul canale telegram alle ore 18 pubblicheremo un codice da psn E che potete spendere in qualsiasi modo raga potete comprarvi bucks potete comprarvi skin potete comprarvi tutto quello che volete anche su altri videogiochi raga E li cariceremo sia su instagram quindi seguitemi anche su instagram e sia su telegram sul mio canale che vi ho spammato all'inizio del video Raga mi raccomando non ho mai avuto un canale telegram ma visto che questi amici mi stanno aiutando a trovare questi codici Ne pubblicherò davvero tantissimi il sabato alle ore 18 Vabbè in caso alle ore 18 14 in quel frangente di ora mi capite raga Mi raccomando quando entrate nel canale raga attivate anche la campanellina in questo modo Quando pubblicherò un post non mi perdete la notifica Cliccate subito e prendete il codice e mi raccomando raga dovete essere velocissimi a prendere il codice Per chi già subito dirà è fake è fake è fake No ragazzi aspettate guardate prima quando darò i codici Vedete che appunto funzioneranno i codici perché manderemo anche le prove che funzionano E poi raga direte se è fake o no Quindi prima di dire fake fake lasciate dislike e dire fake aggiornatevi informatevi e poi parlate Proprio questo motivo raga per evitare questa cosa del fake pubblicherò le prove che funzionano i codici Anche delle persone che hanno appunto preso il codice come primi l'hanno utilizzato e mi manderanno le prove in privato E poi io ve le noterò sul gruppo raga Quindi è tutto quanto real raga non c'è niente di fake niente fake raga tutto quanto real Ragazzi c'è una piccola alternativa io vi ho chiesto un sacco di like perché so che sono tanti raga Ma è il mio primo obiettivo 10.000 like sono davvero tantissimi per me E vorrei appunto raggiungere per la prima volta Però raga c'è un'altra possibilità Se magari non raggiungeremo i 10.000 like potremmo raggiungere i 45.000 iscritti raga Raga potremmo raggiungere i 45.000 iscritti che sono abbastanza ma il video probabilmente uscirà prima Quindi tutti quanti raga dovete condividere questo video con tutti i vostri amici E scrivete quando avete condiviso il video raga dovete scrivere i vostri amici Di iscriversi al canale e lasciare like In questo modo se voi mi supportate in questo modo raga Io appunto vi mostro le glitch e voi riceverete i 60 livelli del pass gratuito Raga poi vorrei lanciarvi un'ultima sfida Per chi inserisce il mio codice creatore ovvero Cadiax, Y, T, Negozi oggetti E mi manda la foto su Instagram Io ragazzi il giorno sabato sempre all'ore 18 Pubblicherò tre persone che hanno appunto inserito il codice creatore nel negozi oggetti E le ragazzi gli accetterò la richiesta amicizia e faremo un game insieme Quindi praticamente voi inviatemi la richiesta amicizia sull'account stream Stream con la S maiuscola, lo spazio, Cadiax con la K maiuscola E raga per chi inserisce il punto del codice creatore, Cadiax, Y, T Io accetterò la richiesta amicizia e ci faremo un game in live Ricordo raga che a breve raga ci sarà una live di 12 ore Non sto scherzando, una live davvero incredibile Ritorneremo perché raga è da tipo 2-3 settimane che non faccio una live Ho davvero la voglia di fare streaming Quindi ritorneremo con una live insieme sia a una mia amica sia a un mio amico a casa Staremo tipo quasi metà notte a giocare a Fortnite Questa cosa qua, tantissimi videogiochi raga Noi raga mi raccomando like, iscrizione, commento, condivisione Arriviamo subito a questi 45.000 iscritti raga proprio di velocemente Codice creatore, Cadiax, Y, T, N, N, G, T Il link di Telegram e di Instagram in descrizione E ci vediamo al prossimo video, bella boys Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!